Conte due casi di coronavirus accertati a Roma, sono turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani in corso controlli, stop ai voli da e per la Cina. Coronavirus per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza globale, 171 le vittime in Cina, più di 7000 i contagiati. Cività Vecchia, allarme coronavirus rientrato per una coppia su una nave da crociera, negativi test, 7000 fratturisti e equipaggio potranno sbarcare. Basara del Vallo, donna massacrata dal marito per tre giorni, fino all'aborto l'uomo è stato fermato, la vittima aveva ritirato la denuncia per maltrattamenti. Maturità, uscite le materie, greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico, spariscono le buste per estrarre le domande. Consiglio E approva l'accordo per la Brexit, da domani il Regno Unito non farà più parte dell'Unione. Europea. Questo programma è presentato da Intesa San Paolo. Grazie. 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 Grazie.